Presidente Sebastiani, innanzitutto grazie per aver accettato l'invito per averci aperto le porte del suo ufficio per parlare stranamente ma nemmeno poi tanto con lei di ciclismo. Domanda a Bruciapelo, si sente più a soggio a parlare di calcio o di ciclismo? Il ciclismo sapete tutti che è una grande passione, mi è sempre piaciuto così come il calcio, è chiaro che ultimamente negli ultimi anni ho un po' abbandonato perché purtroppo il lavoro e il calcio ti tolgono molto tempo e quindi ce ne rimane poco, però il ciclismo è uno sport che a me piace moltissimo. Come e perché nasce la passione per il ciclismo? La passione per il ciclismo nasce tantissimi anni fa perché io diciamo che sono cresciuto insieme con Stefano Giuliani, con i Masciarelli, i Rabbottini, il periodo diciamo che loro erano professionisti e che erano periodo in cui c'era molto attaccamento a questo sport anche qui in Abruzzo, si correva il Matteotti e c'era una giornata di festa con le strade piene, quindi da lì nasce la passione e poi la passione nasce e continua pedalando in bicicletta perché io poi sono uno che quando può la bicicletta la prende e fa dei chilometri perché secondo me è uno sport completo ed è uno sport bellissimo. Ha citato alcuni ex grandi ciclisti abruzzesi, ma c'è un ciclista per cui si è appassionato, magari non per forza abruzzese. No, beh, tutti quanti ricordiamo il periodo, perlomeno chi ha la mia età, dei Moser, dei Saroni, Argentina. Per chi ti pava? Ma io personalmente mi piaceva più Moser per caratteristiche, per carattere, però a mio avviso forse Saroni c'era qualche cosa in più come corridore, anche a livello di classe proprio, però Moser aveva un carattere che a me piace molto e quindi riusciva a fare anche qualcosa in più rispetto alle possibilità. A proposito di ex ciclisti abruzzesi è inevitabile parlare del rapporto particolare che c'è stato, che c'è tuttora con Danilo Di Luca. Sì, sì, ma Danilo è un altro ragazzo di quelli che secondo me hanno fatto un pezzo di storia al ciclismo abruzzese e dispiace per come è finita, perché si poteva evitare sicuramente, però è chiaro che evidentemente in quei periodi questo sport forse era frequentato, mal frequentato e magari tanti ragazzi sono caduti in situazioni in cui potevano evitare di cadere. Danilo sicuramente, io amo sempre dire che, perché nel ciclismo, il ciclismo molte volte viene sempre additato, non molte volte, sempre additato come ciclismo uguale doping, a mio avviso non è così o non lo è per tutti e soprattutto c'è un dato di fatto che il campione resta campione e la mezza cartuccia resta mezza cartuccia, perché vi posso assicurare che se qualcosa lo fa Sebastiani in bicicletta o lo fa Di Luca, Di Luca resta sempre campione. Il cavallo diventa cavallo da corsa, l'asino diventa l'asino da corsa, quindi purtroppo le differenze ci sono e rimangono. Sarebbe bello, ma questo vale per tutti gli sport, sarebbe bello pensare che tutto è pulito, che tutto si gioca in maniera corretta, però non è così nel ciclismo come non è così negli altri sport, io mi auguro, l'augurio è quello di migliorarsi sempre e di cercare sempre di combattere le situazioni, la possibilità di scorciatoie che sono pericolose. E' d'accordo quando si dice che nel movimento ciclistico i ciclisti proprio come categoria siano una categoria molto più divisa di quanto non siano per esempio i calciatori con cui ha a che fare tutti i giorni, sono una categoria molto più compatta e che riesce a tutelare molto meglio i propri interessi rispetto a quanto non facciano i ciclisti. Io dico che quando ci sono i soldi diventa tutto più facile, nel ciclismo purtroppo i soldi ce ne sono pochi e le squadre importanti veramente si contano sulle dita di una mano e quindi è chiaro che c'è maggiore divisione, c'è gente che magari corre con società importanti però c'è la stragrande maggioranza che corre per uno stipendio da operaio senza nulla togliere dall'operaio e quindi è evidente che ci sia divisione, è evidente che ci sia un movimento che non è forte come quello del calcio. È chiaro che qualcosa forse si sarebbe potuto fare in passato, non è stato fatto e oggi se perdi sempre meno potere e se guardiamo solamente il ciclismo di casa nostra, oggi trovare una squadra competitiva in Italia si fa fatica. È vero che è stato un passo da un incarico federale qualche anno fa con Ceruti al capo della FederCiclismo? No, quando frequentavo molto di più il ciclismo all'epoca anche con le società abruzzesi, parlo della Cantina Tollo all'inizio, della Mobilvetta, è chiaro che entrando in un mondo dove non ci sono tantissimi manager, anzi ci sono quasi tutti ex ciclisti che per carità sono bravissimi a livello tecnico ma forse hanno qualche lacuna a livello gestionale, c'è stato un momento in cui si è pensato di fare qualcosa in più. Poi abbiamo fatto qualcosa per Pescara perché Pescara come sapete tutti era in tribunale e quindi ho abbandonato un po' quella pista. Cosa porterebbe del mondo del ciclismo che ha vissuto magari anche non solo da atleta o da dirigente nel mondo del calcio se potesse? L'unica cosa che io porterei di sicuro è la passione della gente e la bellezza di una tappa dolomitica, di una tappa del tour dove ci sono veramente migliaia e migliaia di persone insieme che tifano per l'uno o l'altro corridore e non succede mai nulla e questa è la cosa più bella che ci può essere in uno sport. Una domanda un po' provocatoria, farà prima Stefano Giuliani a riportare Daniele Sebastiani nel ciclismo o prima Daniele Sebastiani a riportare Stefano Giuliani nel mondo del calcio? No vabbè, forse fa prima Stefano perché riportare Stefano nel mondo del calcio è praticamente impossibile. Ha una grande passione per il suo mondo, è nato in quel mondo lì e penso sia giusto che lui continui anche perché al di là dell'amicizia che ci lega io penso che ho seguito tante gare in ammiraglia e penso che come vede lui la corsa, come legge una corsa penso che ci siano pochi in Italia a farlo. Che rapporto ha oggi invece con il ciclismo, con la bicicletta, anche solo con il mezzo? Con la bicicletta ho un bellissimo rapporto, l'ho abbandonata un pochettino nell'ultimo anno e mezzo da un mesetto l'ho ripresa e questa mattina mi sono alzato alle 5, alle 6 ero in bicicletta e ho fatto due ore di bici Tra poco si correrà il trofeo Matteotti, il patron Renato Ricci ha detto non potevo non arrivare alla settantesima edizione ma è l'ultima volta davvero che garantisco questa corsa che di fatto però è un patrimonio non solo della città di Pescara della regione Abruzzo. Che rapporto ha lei con l'elettrofeo Matteotti? Io con Renato siamo amici, abbiamo penso grande stima reciproca mi ha voluto fare vicepresidente dell'organizzazione della società che gestisce il Matteotti do una mano quando posso, però sarebbe veramente un peccato se questa corsa finisse e quindi quando io lo sento parlare, giustamente perché poi voglio dire, io penso che le cose si possono fare insieme, si devono fare perché l'Unione da sempre ha fatto la forza e non viceversa però è chiaro, è evidente che purtroppo in questa città si fa fatica a trovare gente che ha voglia di fare qualcosa per la città. Il Matteotti è un patrimonio di tutti è un patrimonio della città di Pescara, il ciclismo a mio avviso è un veicolo pubblicitario che fa spavento per la forza che ha. Far chiudere una corsa come il Matteotti sarebbe veramente un danno grave a tutto il mondo dello sport e alla città di Pescara quindi io glielo ho detto in più di un'occasione, se si riesce a trovare un gruppo di persone che insieme, con sacrifici limitati per tutti, perché purtroppo oggi il periodo è quello che è possa mantenere in vita il Matteotti e dargli anche maggior slancio perché io mi ricordo che ero bambino e quando il Matteotti contava il Matteotti era una premondiale, ci venivano tutti, era una gara che chi vinceva il Matteotti era quasi certo di avere la maglia azzurra per i mondiali ed era una corsa frequentata dai grandi campioni e soprattutto con delle strade del circuito del Matteotti che non c'era manco spazio per fermarsi oggi io l'altro anno ho seguito il Matteotti tutta la corsa in ammiraglia con Stefano ti viene un pochettino di delusione, la provi perché girando per la strada non trovi nessuno trovi poca gente, solo i pochi appassionati e soprattutto gli atleti che vi partecipano non sono di prima fascia perché poi è evidente che l'attenzione la attiri se porti gli atleti di prima fascia, io ricordo benissimo un'organizzazione che facemmo l'indomani del Giro d'Italia vinto da Danilo in un circuito a Chieti, organizziamo un circuito a Chieti io penso che un circuito così in Abruzzo non è mai stato organizzato c'erano tutti i migliori, c'era gente dappertutto e facciamo una cosa bellissima purtroppo ci vogliono i personaggi e i personaggi hanno un costo devi ritagliarti a mio avviso una data che sia appetibile per tutti settembre le piace per esempio? assolutamente sì, in questo momento considerando quali sono le date del calendario mondiale è chiaro che ti devi avvicinare il più possibile a quella data deve essere una corsa che vale qualcosa è evidente che costa, è evidente che ci vuole l'intervento di tutti è evidente che ci vuole l'impegno degli imprenditori pescaresi perché quando io dico Renato su questo mi ha un po' ogni tanto mi cita per questa cosa quando io dico che a Pescari sono tanti prenditori e pochi imprenditori non me ne voglia nessuno ma la realtà è questa e perché secondo lei? perché ognuno preferisce farsi i fatti propri e probabilmente non ci hanno manco torto perché se si considera che chi fa qualcosa viene additato viene addirittura, guardate quello che è successo a me nel calcio forse fanno bene gli altri, fanno bene quelli che prendono e scappano io non sono così mentalmente per fortuna c'è tanta gente che è ancora disponibile a dare una mano l'altro giorno ho partecipato alla premazione della palla a nuoto beh, se ci ricordiamo dove eravamo con la palla a nuoto e dove siamo grazie oggi a Cristiana Marinelli, alla figlia del Presidente Marinelli che ha voluto riprendere in mano questa società e con tanti sacrifici sta cercando di riportarla ai livelli che competono a Pescara Pescara è una città dove la palla a nuoto è stata sul tetto del mondo è come oggi per esempio nel calcio a 5 noi oggi nel calcio a 5 abbiamo due squadre in Abruzzo oltre a tutte le altre delle categorie minori che sono la Juventus e il Milan del calcio a 5 e se finiscono queste il calcio a 5 finisce quindi per me vanno elogiati e incoraggiati anche dalle istituzioni quelle persone che hanno voglia di fare qualcosa da qui in avanti quanta parte della sua vita pensa che sarà dedicata alla bicicletta e al mondo del ciclismo? ma io spero sempre di più sempre di più perché intanto la bicicletta come dicevo prima è uno sport bellissimo quindi di conseguenza fa anche bene e poi perché significa che magari avrò più tempo e se avrò più tempo vuol dire che il Pescara sarà uscito da tutta una serie di problemi che mi porto dietro da qualche anno e quando i problemi diminuiscono l'impegno diventa di meno e chiaramente c'è più tempo per te stesso e per la bicicletta che è uno sport che amo vi faccio la domanda dell'inizio si è trovato più a suo agio a parlare di ciclismo piuttosto che di calcio adesso che è finita l'intervista mi trovo allo stesso modo perché ripeto nel calcio io da bambino ho giocato e mi piace molto sono da sempre tifoso e quindi parlo tranquillamente di calcio il ciclismo è uno sport che amo e quindi non faccio difficoltà a parlare dell'uno e dell'altro sport grazie Presidente grazie a voi grazie a tutti